Un giorno qualcuno disse che bisogna restituire alla società ciò che la società ti ha donato, ti ha permesso di fare. Io mi definisco un piccolissimo ago nel pagliaio. Cosa posso fare oggi per la società? Allora questo è un modo per avvicinarmi a chi ne ha bisogno. Il nostro obiettivo qual è? Cercare di mettere sulla giusta rotta i ragazzi che oggi non sanno cosa fare, perché il futuro per noi è importantissimo. Allora noi dobbiamo, visto che già un futuro ce lo siamo creati, cercare di aiutare a crearsi un futuro a chi ne ha bisogno, portando sempre questi ragazzi più in là per far sì che il loro sogno si possa avverare, avvicinarsi a un qualcosa, avere bisogno di un qualcuno. Non è a volte solamente una parte economica, può essere un consiglio, può essere un aiuto diverso. Nell'ambito professionale i consigli sono un aiuto, la scuola è un aiuto, l'approcciarsi con qualcuno che ti dà un consiglio diverso, che vede la vita in un modo diverso, perché io sono giovane e la vedo, sai, da giovane. Una persona più grande, più matura e ti dà un consiglio per poter fare un passo nel dovuto modo. ELIS è un'organizzazione che ha voglia di aiutare il prossimo, di aiutare i giovani per farli crescere e di metterli nella giusta strada, professionale e non solo. Allora io, che ho gli stessi obiettivi, come faccio a non sposare l'idea di ELIS? Allora mi avvicino volentieri.